Bentornati fratati vittuberati in un nuovo unboxing di Dragon Ball Sous Perché ragazzi miei come avrete letto dal titolo In questa scatola c'è Dragla Sous Ora io so più o meno di che cosa si tratta ma non so Nello specifico cosa contiene perché come potete notare la scatola è chiusa Prima di iniziare ricordare il pollicione all'inizio per supportare questi video E durante questi video vi farò alcune domande su questi video Voi mi risponderete nei commenti Dai Allora iniziamo subito aprendolo con lo scanna cinghiali Le famosissime scanna cinghiali Ci siamo eh Vedo già alcune cose davvero molto interessate Allora Voi non starete vedendo Madonna regà quanta roba c'è dentro Ora io ve le mostrerò qui dopo man mano cambierò inquadratura Allora tanto per cominciare Abbiamo Il flyer Signori miei Dragon Ball Super Card Game Arriva ufficialmente in italiano Il 31 Gennano Ora siamo già a per la via Ma spiegate da questo momento Di doveva fare Anzi Tutte le putterie E non so Attenzione Qui abbiamo un altro flyer Ottimo Qua vedo un altro flyer Cos'è questo? Guardate che figata ste immagini Io spero che si vedano perfettamente ragazzi Perché sono meravigliose Ma guardate No regà è pieno di roba No non ci credo No regà Guardate queste Guardate il golden freezer Stupenda Stupenda Regà Sta roba è pazzesca Io ringrazio ovviamente Madonna Per avermi inviato Oh mio dio regà Una cosa alla volta Ok una cosa alla volta Dicevo Una cosa alla volta Ok una cosa alla volta Dicevo Ringrazio Madonna Per avermi inviato Tutta questa roba Qui sono sculato Lì Sulla playstation Sono sculato No vabbè Questo lo posso mettere Sulla finestra È fantastico No vabbè È buon O chissà Naffe Al sinestra È fantastico Sta impazzendo Sì Sto impazzendo Siamo pronti Madonna Quanta roba Ok Due magliette Di dragon ball Dovrebbe essere il nome Dell'espansione No Dragon ball Super card game Ragazzi Io a questo punto Direi una cosa Beh io direi che adesso Adesso va molto meglio Aspetta che tolgo Guardate che spettacolo Wow Wow Poi abbiamo Delle carte promo Sì Delle promo Queste le andremo a spacchettare Tra pochissimo Ragazzi Le mettiamo qui Perché poi cambierò Inquadratura Non vi preoccupate Dei pacchetti Con delle carte Pro Che vedremo E spacchetteremo Tra pochissimo Madonna raga Non vedo l'ora No ma È strapieno di roba Ma vogliamo parlare Del portadeck Ragazzi Il portadeck No vabbè Andremo ad assemblare Anche questo Oggi Oggi vado fuori di testa Madonna Grazie veramente di cuore Ora io mi aspettavo Un pacco Ok Ma Questa è davvero Tanta roba Altri pacchetti Di pro Aspetta Dentro se non sbaglio Si può 14 promo rare Cioè Perché tra l'altro È l'unico modo Che ho Per trovare le rare Ok Raga Un altro portadeck Questa volta Di Gianè Mena Madonna mia Noi ci vediamo Con il prossimo video Sè Ooooooooh Ooooooh